In collegamento con noi c'è il professor Dario Manfellotto, presidente della federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri interni. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie Vicaretti. Molto più semplicemente il presidente degli internisti, degli specialisti medicina interna italiani che stanno in questo momento affrontando la criticità, io mi permetto di segnalare che il 70% dei pazienti ricoverati che non sono in rianimazione sono nelle medicine interne italiane con equip multidisciplinari che hanno internisti, pneumologi, infettivologi, cioè bisogna lavorare tutti insieme, è inutile dire servono questi o servono questi altri specialisti, bisogna fare squadra. Voglio andare a Milano da Chiara Paduano alla regione Lombardia perché per Milano, per la regione Lombardia bisogna sempre passare perché è la regione col più alto numero di contagiati e di decessi, non in Italia, a livello europeo, Chiara? Una curva che si sta stabilizzando, non c'è più quell'impennata che abbiamo raccontato in questi giorni, lo dice timidamente la regione Lombardia a inizio giornata, dunque ancora in attesa dei dati odierni, in una regione nella quale le misure restrittive si hanno funzionato si vedranno appena tra una settimana e a far paura a Roberto sono sempre due numeri, quello dei decessi, ieri sono morte in una sola giornata 252 persone, poi le terapie intensive perché davvero non ci sono più posti letto in terapia intensiva, 924 posti, la capacità regionale sono 757 le persone ricoverate, per questo motivo la regione vuole realizzare 500 posti di terapia intensiva all'ex Fiera Milano City in due padiglioni, per questo ha chiamato come consulente Guido Bertolaso che arriverà proprio qui in tarda mattinata o nel corso della giornata, domani si avrà una risposta mentre nella Fiera si continua a lavorare, un progetto che sembrava inabilico e sul quale invece la regione punta davvero non solo per i pazienti, per i malati di coronavirus della Lombardia ma per tutta Italia. Ci ha proprio detto questa mattina qui la vicepresidente Sala che la Fiera, i posti di terapia intensiva in Fiera si faranno perché questa davvero è l'urgenza di questi giorni. A te. Grazie Chiara, alle 11, quindi tra mezz'ora, poco più di mezz'ora, videoconferenza dei ministri della salute e dell'interno dei paesi dell'Unione Europea per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Professor Manfellotto, le volevo chiedere, rispetto alla regione Lombardia, al di là delle polemiche, al di là del confronto politico, le ha viste le immagini di quelle mascherine? Ha visto l'appello che è arrivato dai responsabili degli ospedali, del Servizio Sanitario Nazionale in quella regione, con quelle incapacità o insostenibilità dell'assenza di materiale, ma come siamo arrivati a questo punto? Mai non si era preparati, nessuno era preparato a un'emergenza di questo genere. Io le immagini non solo le vedo, ma sono in contatto continuo con i miei colleghi primari di medicina interna del Nord, Piemonte, Lombardia, Veneto, tutti mi segnalano il problema dell'enorme affollamento perché il sistema sanitario è una filiera e quindi se non funziona il pronto soccorso, non funziona la medicina, non funziona la rianimazione, tutto deve scorrere come l'olio e poi il paziente deve poter passare a seconda dell'intensità della sua malattia e delle cure che necessita da un reparto all'altro, quindi devono tutti funzionare al meglio. Perché non ci sono mascherine? L'Italia non le produce, l'hanno detto in tanti, è inutile che lo ripeta io. L'Italia non le produce, non eravamo attrezzati per questi problemi, le stiamo importando, purtroppo però ci troviamo noi a dover affrontare l'emergenza spesso senza mascherine, in alcuni ospedali addirittura hanno consigliato di tenerla per una settimana che è francamente qualche cosa di improponibile. Invece quanto potrebbero essere utilizzate e dovrebbero essere utilizzate? Un turno di lavoro per le mascherine sia quelle chirurgiche, cioè quelle semplici che proteggono soltanto gli altri e parzialmente chi le porta, mentre invece i dispositivi di protezione più importanti, le mascherine filtranti, quelle possono durare dalle 6 alle 8 ore. Sostanzialmente un turno di lavoro del personale medico e infermieristico. Senta, viste questi elementi, agli italiani che devono andare a fare la spesa, che devono uscire per quelle questioni inevitabili, quelle previste dalla legge e solo quelle. Lei consiglia di mettere e utilizzare quelle mascherine? Guardi, qui purtroppo siamo in questo momento nel vuoto delle indicazioni generali, ci sono molte opinioni personali e molti riferimenti internazionali e nazionali sui codici di comportamento. Io sono fra quelli che dal primo momento hanno pensato che se tutti quanti portassero la mascherina chirurgica, questa sarebbe una misura di distanziamento. Quindi oltre a stare necessariamente a casa, bisogna stare a casa perché questa è la misura migliore, ma se uno deve fare qualche cosa fuori necessariamente, allora la mascherina chirurgica limita sicuramente, ancorché parzialmente, la diffusione delle goccioline di saliva e quindi del virus. Professore, i dati di ieri dicono 2853 contagiati in un solo giorno, 368 decessi solo ieri, significa malcontati 25% in più in 24 ore. Quando lo vedremo questo benedetto e maledetto picco, c'è una previsione possibile o comunque un metro entro il quale ragionare se parliamo di giorni o di settimane? Ma guardi, qui le persone più accorte, io cerco di inserirmi fra queste, non possono fare previsioni in modo assoluto. Vi dico che ci sono alcuni modelli statistici che sono stati utilizzati, uno è stato pubblicato proprio due giorni fa sull'ANSET dal gruppo del professor Remuzzi di Bergamo che ha fatto una proiezione e ha visto quale era la possibilità di evoluzione della malattia e sta in qualche modo rispecchiando quello che sta succedendo anche se, lo diceva pure ieri sera Remuzzi, il dato positivo è che quello che sta succedendo in realtà è un po' inferiore alla previsione che aveva fatto Remuzzi statisticamente, quindi un po' meglio di quanto non ci si attendesse. Ma dire quando potrà finire in questo momento credo che non sia possibile dirlo seriamente parlando. Professore, le chiedo un'ultima cosa che riguarda il centro-sud, perché del nord abbiamo detto, abbiamo visto la situazione in regione Lombardia, anche le parole dell'assessore Gallera, noi abbiamo aperto la trasmissione col presidente della regione Puglia, Emiliano, ha detto stiamo ripensando, abbiamo ripensato un po' il sistema ospedaliero in regione, ecco, è pronto il nostro centro-sud? Anche qui io le faccio la fotografia di quello che i miei colleghi primari di medicina interna e gli internisti che sono in tutti gli ospedali italiani, come io sottolineo sempre, mi raccontano e noi abbiamo il paziente molto critico che deve andare in rianimazione, allora sappiamo che in Italia sono 5.600 posti di terapia intensiva, in Lombardia l'hanno ampliati e stanno ampliando a 900, 1000, tutto il resto sono distribuiti nel territorio nazionale, nel sud sono un pochino di meno, quindi si stanno attrezzando ottimi medici, ottimi infermieri, ma strutture che sicuramente non hanno il livello di perfezionamento e i numeri della sanità a Lombardo-Veneta, quindi io confido che come sta facendo Emiliano e altri presidenti, la regione Sicilia per esempio ha fatto un'ottima delibera di organizzazione e di preparazione e io vedo che il sud si sta con tutte le difficoltà organizzando, quindi sono convinto che se dovesse arrivare l'ondata dovrà essere affrontata con delle misure ulteriori che tutti quanti dovranno mettere in piedi, partendo da una situazione che è sicuramente meno organizzata e strutturata di quanto non sia al nord. Grazie professore per essere stato con noi, io torno in Lombardia.